Per un pelo! I riduttori gravitazionali principali sono in funzione! Siamo decollati! Andiamoci al lavoro! Bella porta! Non preoccuparti, i Final Echo dispongono di codici di aggiramento per tutta la tecnologia confederata. Dal ponte di volo si vedrà! Bene, allora facciamo in fretta. E chi ne scorda? E ci beccarono! Sorpresa, ragazzi! Chi sono questi idioti? Truppe d'assalto pesanti, esercito segreto di Sarana. Sono dei figli di puttana duri a morire, non ci piove! Grazie. Mi stai ringraziando? Ho dato una mano a progettarlo. La forza è traditore! E' già pirata! E' già pirata! Facciamo ricordi! E' già pirata! Facciamo ricordi! 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 Forza saisione! Guarda un po' che abbiamo qui. Tre merdosissimi clandestini. Mi fa molto piacere che siate qui. Avrò l'opportunità di ammirare i miei soldati e vi ecco, mentre smentrano e si trasturlano con i vostri cadanti. Sì. Epp momenti si torna con mia fuga Epp momenti! Siete! Grazie a tutti. Onesti soldati che facevano il loro domenico. Si sono messi fra me e voi. Quindi immagino sia stato giunto ucciderli, non è vero? Dai, i codici sono inutili. Ci ha chiuso fuori. Ti lascerò entrare, Trish. Ti va di sederti sulle gambe del tuo paparino? Ancola quel vecchio schifoso. Conosco un'altra via d'accesso. Datemi una mano. Aprirò la porta dall'altra parte. Fottuti condotti di ventilazione. Credo di poter aprire quella porta. Trish che è andata a... È andata a uccidere Serrano. Non tornerà indietro per noi. Già, credo sia proprio il tipo. Andare in corto la console. Vale la pena di provarci. Dovresti vederti quando lo fai? Sempre un fottuto idiota. Io ho raggiunto l'obiettivo. Ho aperto la porta. Ok, bene. Hai aperto la porta imitando un fottuto idiota. Com'è, Trishka? Perché il modo di arrivare fino al caro vecchio Serrano è... In attesa del vostro arrivo. Mi sono fatto uno scotch e ho pensato di trastullarmi un po'. Il codice ECO esige che reclami da sola la sua vendetta. Codice ECO è un cazzo. La ragazza sta per finire in un bagno di sangue. Ehi, fermate! Merda. Ha fatto la sua scelta. Concentrati su un problema all'aborto. Concentrati su un problema all'aborto. Non mi fate paura. Nessuno di voi. Forza, venite. Non vi piaceranno lo che troverete. Vi presento la squadra ELECE che sono tanti e MIECO uscita direttamente dal buco del culo infernale. Oh sì. L'ora del massacro. Forza per domenziare. Non so. Tantio le silviamo per causa della gubora. Far da lìcia a pirata. Oh no, oh no, oh no! Coraggio, Sam Rano si nasconde qui. Forcerò i comandi dalla porta. Cerca di non folgorarti da solo, idiota. No, ho preso il codice dall'ultimo che abbiamo fatto fuori. Coprimi mentre lo inserisco. Ok, hai la tua copertura e potenza di fuoco in abbondanza. C'è un pirata, facciamoli fuori. A te li sentiamo! Vedevano, caro da pelle, quegli uomini salvati come lupi, feriti e brancati. Erano sudi, erano schifosi e puzzavano. Io li amavo! Ah! Duggan e Carter! Un vero guerriero! Non ne fanno più così! Ah, beh. Ciao, bellissimi. Energia esaurita! Ray! Ci prendono a destra! Non ci prendono a destra! Ma c'è fretta, dico. Prenditi tutto il tempo che vuoi. È una procedura molto complessa. Sotto lì, scompezzaglio zona. Dispirata, facciamo i fuori. Ok, ci sono. E ci sono anche degli avi Echo. Siamo davvero una squadra perfetta. Nessuno di questi pezzenti può giocarsela contro un'ed-eco. Grazie. Grazie.